adesso voi mi dovete spiegare come cazzo si fa a fischiare un fuorigioco del genere ad annullare un gol e fischiare un fuorigioco del genere per un giocatore che stava a terra che non avrebbe influito in nessun modo in quest'azione che cazzo faceva Giroud a terra come poteva beneficiare l'azione del Milan cioè che cazzo di fuorigioco è ragazzi questo un fuorigioco inutile inutile stava per terra stava che come faceva quello è la presa distinto il difensore ma a prescindere secondo me se c'era Giroud o non c'era Giroud l'avrebbe toccata come cazzo si fa ragazzi a fischiare un fuorigioco del genere io penso veramente siamo c'era il bar non c'era il bar il bar e non so che cazzo si sono bevuti al bar per fischiare un fuorigioco così ragazzi la partita ci può pure stare perderla ci può pure stare perderla perché io tutto sommato in napoli visto un napoli tutto sommato migliore del milan però ragazzi non con questo gol di merda e non con questo gol di merda non con un gol annullato in questo modo a parte il solito regalino noi nella partita lo dobbiamo sempre fare il solito gol regalato ormai non so da quante partite in cui subiamo gol regaliamo gol tolta la salernitana penso il 90 per cento dei gol che abbiamo presi l'abbiamo regalati ormai non abitué il milan che regala gol agli avversari come se se lo potesse permettere ma vabbè però ragazzi no così cioè un ripeto ci sta a perdere ci sta a perdere perché tutto sommato secondo me il napoli stasera ci ha messo più qualità non ce l'abbiamo messa tutta la convinzione poi abbiamo trovato questo gol ok ce lo prendiamo questa sera era un punto che mi sarei portato a casa volentieri non quello della partita precedente con l'udinese questa sera il punto me lo sarei portato a casa volentieri perché con l'udinese ho visto due punti persi perché era l'udinese con il napoli ci sta era un punto guadagnato stasera soprattutto per come è stata la partita però ragazzi stanno veramente tra gli infortuni ma anche con gli arbitri non ce ne gira una a sto cazzo rigore per il milan rigore un pezzo di cazzo ragazzi dov'è il rigore per il milan fuori gioco veramente scandaloso mi veramente non non capisco come si faccia a fischiare un fuori gioco del genere che cosa incida su un'azione un fuori gioco del genere ragazzi non non c'ha senso secondo me non c'ha proprio senso guardate non proprio figure da cioccolatagli questi arbitri cioè non non capisco ragazzi c'è il VAR che cazzo guardano lì sul VAR io veramente perlomeno cioè mettete adesso date la possibilità all'arbitro di spiegare che cosa ha visto di spiegare perché ha fischiato questo fuori gioco perché non veramente anche anche i telecronisti erano piuttosto sbigottiti per questo tipo di fuori gioco perché era totalmente inutile cioè non si può smaterializzare ha preso il pallone si è interessato al pallone giuro non mi sembra non so qual è il discorso si renda almeno pubblico il dialogo che c'è stato perché veramente ragazzi togliere un gol del genere è scandaloso poi che il Napoli potesse vincere questa partita ci può pure stare però ragazzi così non ce ne va dritta una non ce ne va dritta una quant'è partite che dico che non ce ne va dritta una non ce ne va dritta una ragazzi poi il Milan per carità è lì davanti ha pochissima qualità stasera pur ha dimostrato veramente poca qualità tanta prevedibilità non si salta l'uomo non c'è velocità tanti passaggi sbagliati poca verticalizzazione tutto quello che volete però che cazzo se ci dovete pure annullare i gol regolari andate una fanculo e vabbè ragazzi anzi non va bene però è andata così tirasse via ad arrivare questa questa pausa nazionale per ci pausa nazionale questa pausa natalizia perché veramente non se ne può più è un milan stanco è un milan cotto e abbiamo bisogno di recuperare i giocatori di riposarci perché corriamo male non ci siamo fisicamente non ci siamo mentalmente adesso ultima partita contro l'Empoli e si vedrà ragazzi forza milan comunque buona serata a tutti